pensi abbastanza alla tua salute fallo nella giusta misura e senza troppi allarmi proteggi il tuo futuro con una soluzione completa scegli assi care il piano sanitario che ti aiuta a mantenerti attivo prendendosi cura di te e della tua famiglia informati presso una delle nostre filiali casse rurali della val sugana le banche della comunità da dicembre più treni sulla ferrovia della val sugana e corse più veloci rivoluzione dal prossimo 9 dicembre per la ferrovia della val sugana aumenta il numero delle corse con più treni in servizio nella fascia mattutina tra borgo e trento e in quella pomeridiana in direzione opposta aumenta anche il numero dei posti a sedere per i pendolari e diminuiscono i tempi di percorrenza il primo treno da borgo arriverà trento alle 6 58 a seguire il diretto in arrivo alle 7 44 la corsa in partenza da trento nel pomeriggio è alle 17 40 nella sostanza nella fascia dei pendolari mattutini i treni in servizio da borgo a pergine per trento passano da 5 a 7 nella fascia dalle 16 30 alle 20 i treni da trento a borgo e pergine passano da 5 a 6 con più posti garantiti diminuiscono anche i tempi di percorrenza per i treni più veloci da borgo a trento si passa da 65 a 50 minuti fra pergine e trento infine da 26 a 19 minuti grazie grazie grazie